ARTUR! ARTUR! Oh, finalmente! Questo è il fidanzato di Peña Mina. Hai trovato? No, no. Non ti perdere d'animo per trovare. Arturo, abbiamo trovato un lavoro per te. Un lavoro vero. No, grazie. Era un mezzo mago, così ce lo siamo portato con noi. Qua. Là sotto ci sono cose che non sono fatte per gli occhi degli uomini, ma delle anime. Non ci aspettavano. È due mila anni che ci aspetta questo. Arturo! Arturo! Dobbiamo scappare. È lì fuori, è pieno di carabinieri. È di valore inestimabile. Questo è quello che siamo qui per. Per estimare l'inestimabile. Ma certo che eravano tutti matti stietruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino. Noi volevamo fai soldi. Ma lui, lui cercava una porta. Un passaggio per l'aldilà. Un passaggio per l'aldilà.